Questo invece è il risultato del mio refresh al giorno 4 Cioè i miei capelli sono così voluminosi da non entrare nell'inquadratura Cioè... Benvenuti in questa nuova pillola ricciola dove ci occupiamo di capelli ricci con l'aiuto di un pizzico di scienza qua e là Questo oggi parliamo del famosissimo light cream gel di Bounce Curl Uno degli styler più apprezzati in assoluto dalle ricciole di tutto il mondo E in particolar modo vi porterò con me nel mio primissimo wash day in cui l'ho usato Spoiler! Non è andata benissimissimo Vi parlerò delle mie prime impressioni, degli ingredienti, degli errori da non fare quando si utilizza E tutto ciò che secondo me dovreste sapere prima di comprarlo Anche perché per reperirlo qui in Italia costa un po' una fraccata di soldi Meglio quindi assicurarsi che non vadano sprecati Cominciamo subito dicendo che l'azienda stessa, la Bounce Curl È davvero interessante ed adorabile di per sé Perché è partita proprio da una ragazza riccia Che quindi conosce bene i problemi, i bisogni e i desideri di noi diversamente lisce O lisci Ed è proprio lei stessa a formulare i prodotti Ma andiamo dal nostro protagonista Al costo di 24,90€ su Curly Selection e di 32,41€ su Afro Italia Si tratta di un gel dalla tenuta efficace ma al tempo stesso leggero È come se fosse composto infatti per l'80% da gel Unito al restante 20% di crema La descrizione ci dice che non appesantisce i capelli Permettendo di ottenere un ottimo volume Mantenendo al tempo stesso la piega per svariati giorni Riducendo inoltre il crespo Cioè praticamente il sacro graal di ogni riccia Il sacro graal è stato ritrovato proprio qui a Verona Ma sarà vero? Tra poco lo vediamo Il sito specifica che bisogna fare attenzione Nel provare cocktail strani con altri prodotti Nel senso che abbinandolo all'evin o creme di altre aziende Potrebbe non reagire bene Mentre invece è sicurissimo da usare insieme ad altri prodotti della stessa linea Ma questo problema a me non interessa perché specialmente essendo la prima volta lo utilizzerò da solo Ingredienti Lo so che alla maggior parte di voi piace spulciare l'inci e giocare a fare i piccoli chimici Perciò vediamolo un attimo Innanzitutto si tratta di un prodotto vegano e cruelty free E in alto nell'inci troviamo la famosa glicerina Un'umettante semplice che sembrerebbe non favorire la resistenza all'umidità Questo io lo potrò verificare solo col tempo Ma ad esempio Camilla Guarracino ha usato spesso questo gel E le è anche capitato di uscirci nella completa umidità E nonostante questo i ricci hanno tenuto benissimo Quindi boh Colgo l'occasione per ricordare che è difficilissimo giudicare o prevedere la performance di un prodotto Semplicemente leggendo la lista degli ingredienti Andando avanti Subito dopo al sesto e settimo posto troviamo delle proteine idrolizzate Più precisamente quelle del grano e dell'avena Questo lo rendono un prodotto teoricamente abbastanza forte come contenuto di proteine Però non possiamo conoscere la percentuale effettiva Perciò potrebbero anche essere pochissime Comunque io direi provatelo all'interno di una routine priva di altri prodotti proteici Specialmente se avete capelli spessi e a bassa porosità E al massimo se ne uscite sentendo i vostri ricci ben idratati Nei lavaggi successivi potreste provare ad abbinarci altri prodotti proteici Ma mi raccomando fatelo gradualmente Ricordate cosa vi ho detto nella pillola su questo argomento vero? Ed è proprio ciò che ho fatto io Quello che vi mostro adesso è un passaggio assolutamente facoltativo Ma ormai da qualche mese mi trovo bene ad utilizzare un balsamo abbastanza liquido Per districare delicatamente i capelli prima di bagnarli E il prodotto migliore che io abbia provato per fare questo è sicuramente l'air dry cream di Garnier Ho utilizzato lo shampoo micellare Bio Point Teoricamente un purificante Anche se a me è sembrato un po' leggerino per il momento per essere considerato tale E poi ho applicato la mia mitica maschera simple di cui vi ho già parlato Io la amo! Ultimamente ho capito che i miei ricci amano alla follia Se prima di lasciare la maschera in posa faccio i twist Si tratta di una tecnica chiamata curl training Che mi aiuta tanto per far sì che i ricci mi ascano davvero più definiti Se volete che ci dedichi una pillola ricciola intera commentate con questa faccina Una volta risciacquata la maschera ho preso il dosatore da mezzo cucchiaio Ovvero 7,5 millilitri per misurare la quantità di gel da applicare E magari non fate come me ma ricordatevi di togliere la linguetta di plastica protettiva prima di usarlo Aspetta Un genio E alla fine devo dire che per averlo utilizzato a capelli davvero grondanti È stata anche un po' scarsa la quantità di gel che ho usato per la mia densità alta Infatti tra poco vedrete perché La mia tecnica di applicazione ultimamente è sempre la solita Raking unito al praying hands Quindi con le mani belle zozze di gel Districo molto delicatamente tutti i ricci partendo dal basso E tenendomi abbastanza lontana dalle radici Per poi andare ad uniformare le ciocche facendole passare in mezzo alle mani giunte Sempre molto delicatamente Ripeto gli stessi passaggi anche a testa in su dove è necessario Prima di passare all'asciugatura Ora però io ho commesso un errore nell'applicazione Che sono convinta abbia compromesso il risultato Perché sulla confezione stessa c'è scritto che per capelli fini L'ideale è distribuirlo su capelli estremamente bagnati E anche una ragazza su Instagram fondamentalmente mi ha dato lo stesso consiglio Perciò cos'è successo? Quando l'ho cominciato ad applicare i capelli erano belli grondanti Ma non contenta di questo visto che mentre lo distribuivo mi ha dato effettivamente una strana sensazione Quasi di secchezza Ci ho anche rispruzzato altra acqua sopra Morale della favola l'ho diluito troppo Infatti durante l'asciugatura mi ha creato ben poco del mio amatissimo cast Con una definizione media rispetto alle aspettative che avevo La conferma questa mia teoria è arrivata poi il giorno dopo durante il refresh Infatti ho ribagnato i capelli con lo spruzzino non in maniera eccessiva E poi ho riapplicato un altro po' di gel E infatti la situazione è migliorata Questo invece è il risultato del mio refresh al giorno 4 Mi piace Perciò non lasciatevi ingannare dalla sensazione che lascia sui capelli bagnati Va solo lavorato bene con le tecniche più adatte a noi Credo possa essere adatto a quelle persone che odiano il cast Perché non ne forma tantissimo Almeno per il mio standard Per quanto riguarda invece il discorso proteine Potrebbe non essere adatto a tutti In particolare a chi ha i capelli più sensibili a questi ingredienti Perciò fate attenzione Per quanto riguarda la tenuta ed il mio verdetto Per il momento sono molto fiduciosa Perché comunque mi ha lasciato i ricci davvero morbidi e leggeri Ovviamente però ho bisogno di un po' di tempo per giudicarlo Vi aggiornerò sicuramente a breve sul profilo Instagram E eventualmente in altre pillole Nel frattempo smipiaciate questo video se vi è stato utile E cliccando qui in sovrimpressione Troverete invece la pillola completa dove parlo delle proteine Alla prossima pillola ricciola Chiaramente non si vede perché è troppo chiaro Porca Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.